Sarà perché Saturno è stato da sempre distrattato, perché è l'ultimo dei pianeti visibile a occhio nudo? Sarà perché gli antichi oltre Saturno non riuscivano a vedere? Sarà perché Saturno contro è un'espressione che ormai è diventata di uso corrente? Ma il povero Saturno porta su di sé una fama peggiore di quella che si merita. Intanto chi è Saturno? Saturno è la versione latina di Cronos e non è un caso che la versione latina di Cronos sia meno rigida e meno dura di Cronos stesso, ma torniamo alle origini. Saturno, la mitologia greca ce lo insegna e voi sapete che io ho questa passione di creare una relazione sempre fra la mitologia che rappresenta il mondo simbolico e l'astrologia che rappresenta un altro, il linguaggio simbolico per eccellenza. Cronos è il figlio di Urano. Urano giaceva tutte le notti con Gea e dal loro amplesso nascevano i figli che però Urano temeva lo detronizzassero perché una profezia aveva detto che lo avrebbero detronizzato e quindi Gea era costretta a nasconderli perché Urano non li trovasse per ucciderli. Ad un certo punto Saturno decide di uscire dal suo antro e di evirare il padre. Urano viene evirato, i suoi testicoli cadono nel mare e dalla schiuma del mare che si forma tra l'altro nasce Venere che meriterà poi un discorso a parte un altro giorno. Dunque Saturno subentra al suo padre, Urano si ritira in un angolo sperduto, fa e ammenda in fondo, riflette su se stesso e migliore il suo carattere e Saturno prende il posto di suo padre ma a sua volta vive il terrore di essere detronizzato e peraltro lo sarà da Giove e quindi diventa rigido, diventa inflessibile, diventa intransigente, diventa il protettore di tutto quello che esiste all'interno di una struttura appunto rigida. Ma da un punto di vista astrologico che cosa rappresenta Saturno? Ed è un pianeta solo collettivo o anche un pianeta individuale? Nel caso di Saturno non parliamo di un pianeta generazionale, parliamo anche a livello individuale della sua importanza. Saturno impiega 29 anni a tornare sulla sua posizione natale e scandisce dei cicli di 7 anni, da 0 a 7 anni, da 7 a 14, da 14 a 21, da 21 a 28. Se noi facciamo una veloce analisi della nostra vita, ci rendiamo conto che a 7 anni il bambino conosce il suo primo sviluppo, entra nel mondo della scuola, nel mondo della relazione con gli altri, nel mondo del sociale. A 14 è in piena pubertà, gli ormoni impazziscono, diventa un'altra persona, Saturno è un pianeta maschile, ricordiamocelo, quindi la sua influenza è di tipo virile. Gli ormoni impazziscono, il fisico si modifica, le persone vivono, i ragazzi vivono, maschi e femmine che siano, un momento di estremo squilibrio perché Saturno in quel momento è opposto alla sua posizione natale, è esattamente nella fase nella quale si completa l'unità dell'individuo. I due segni opposti, sono due segni complementari e l'uno ha quello che manca all'altro. Ecco allora che il bambino, il neonato di quando Saturno era in una certa posizione, diventa l'adolescente che si accinge a diventare maturo e maturo lo sarà a 21 anni, tanto che se noi ricordiamo fino a poco tempo fa si diventava maggiorenni a 21 anni, non è casuale. A quel punto Saturno occupa la terza posizione, quella di quadratura a se stesso in arrivo verso la congiunzione che sarà fra i 28 e i 29 anni che è appunto il passo di Saturno. A 29 anni l'uomo è adulto, è consapevole di sé, ha fatto le sue scelte, ha deciso qual è la strada che vuole intraprendere e comincia il suo secondo ciclo Saturnino. All'interno di questi cicli non ci sono solo gli aspetti di disarmonia, quelli dei 7, 14, 21, 28, ci sono anche dei momenti nei quali Saturno creando con la sua posizione natale un aspetto di 120 gradi forma un trigono. Cos'è il trigono? Il trigono è l'aspetto più bello dello zodiaco. C'è un angolo di 120 gradi che separa una certa posizione dal pianeta transitante. È il momento nel quale il pianeta esprime il meglio di sé, apre le porte, consente al soggetto che è capace di raccogliere l'invito e di raccogliere il suggerimento di agire, di attivare la parte positiva e la parte costruttiva di sé. Ma sempre con la severità saturnina. Saturno è, si dice, domiciliato in capricorno. Che vuol dire? Vuol dire che il segno che gli corrisponde di più, quello nel quale si trova proprio agio, quello nel quale esprime la sua natura, è il capricorno. Saturno non è il pianeta del potere, ma Saturno è il pianeta che costruisce le mura portanti delle città. Saturno è il pianeta che protegge, per esempio, gli ingegneri, proprio perché le strutture vengono costruite da Saturno. È il pianeta che non consente il vuoto. Saturno è il pianeta che ci impone delle regole e vuole che noi le rispettiamo. Nella cultura latina, però, questo Kronos che divore i suoi figli, questo tempo che passa, trascorre, scandisce, avevano molto più buon'aria, perché il Saturno latino, invece, era il portatore dell'età dell'oro. Allora, se noi ci riflettiamo bene, le conquiste maggiori, le decisioni migliori, le svolte più significative della nostra vita, le abbiamo date proprio con un trigoro di Saturno. Quindi Saturno non è un nemico. Saturno è il nostro severo, rigido amico che ci indica la strada e non ci consente di interrogare da quella.